ragazzi buongiorno per chi volesse sostenere il canale ricordatevi sempre che lo si può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina tra l'altro eccolo qua Antonello Antonello ci saluta perché soprattutto con Digital Beats era tutto a posto come diceva qualcun altro su YouTube per come la vedo io quando ci sarà il passaggio le proprietà oltre ad Antonello potrebbe rischiare anche qualche altra figura le parlavo stamattina con una persona stasera non possiamo fare la live perché uno dei ragazzi non c'è la rimandiamo ma le stiamo organizzando perché comunque fare le live serali fino a tardi eh per noi che abbiamo famiglia è un impegno non indifferente quello che vi posso dire io di quest'anno di Optrie è che mh Optrie sta facendo un lavoro mastodontico sui conti e sono migliorati tantissimo nonostante siano passati pochi mesi signor Zhang è già stato liquidato non date retta alle fandonie eh Zhang potrebbe prendere qualche cosina o allora l'Inter venisse venduta più di due miliardi ma è una cosa che non accadrà e quindi Optrie ha migliorato tantissimo i conti eh aumentato i ricavi il bond è sempre lì fermo buono a prendere la polvere Optrie potrebbe decidere anche di può sembrare strano quello che sto per dire ma può accadere Optrie potrebbe decidere anche di saldare il bond qualche settimana prima della vendita quindi siamo ancora in una fase dove sinceramente eh ci sono tanti miglioramenti ma dove dobbiamo migliorare eh in maniera imminente questa rosa perché così non possiamo andare avanti soprattutto in attacco dove la Tula non ha un sostituto degno e alla fine ragazzi quest'anno per come la vedo io è è stata fatta la è stata fatta la stessa preparazione di 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 due anni fa per cercare di carburare al massimo a fine anno sperando di andare avanti il più possibile in Champions e questo quello che è stato fatto e lo vede anche il campo ora però non è che se un giocatore corre meno diventa forte fa 40 gol quello è un altro discorso che quando corre di più fa 40 gol ehm questo proprio è un diktat di opti che ormai abbiamo capito tutti e di farsi trovare pronti di fare bella figura soprattutto nei big match eh il problema qual è? Il problema è che davanti come ho detto prima non c'è un sostituto degno di Lautaro Martinez e di Turam perché quei tre quei tre lasciano il vuoto mh si fa male c'erano due e ti va in vacca il centro campo perché quest'estate eh io eh ero uno dei pochi che diceva serve un cotitolare di Cialanoglu purtroppo Cialanoglu è insostituibile in questa squadra perché Aslani possiamo dire ha dimostrato di non poterlo sostituire degnamente purtroppo quindi eh lo stesso eh tornando agli attaccanti a Natovic a Natovic lo puoi usare come boa lo lo devi lasciare fermo lì a fare le sponde non lo puoi mandare sulla fascia come fai con Lautaro o come fai con Turam cioè Correa io però ragazzi sto dicendo una cosa e vi voglio ridire una cosa e non sto scherzando e non la dico per partito preso perché comunque il campo è il giudice supremo ed è quello che parla chiaro. Trattaremi Arnautovic e Correa secondo me quello visto che conosce allenatore conosce bene la Serie A quello che può fare qualcosina è Correa quindi a febbraio rimettetemelo in lista Champions Correa per favore tra l'altro prima di parlare dello stadio voglio dire una cosa una società seria che è successo io mi sono preso tutta la scena una società seria una società seria anche in una situazione di passaggio come l'è questa no perché altri non vede l'ora di liberarsi dell'Inter in una società seria visto che davanti ai due attaccanti per cinque competizioni una società seria una società normale che può pagare le bollette a gennaio visto anche i soldi della Supercoppa a Rialto cerchi di regalare qualcuno di questi tre uno tra Taremi Correa e Arnautovic per me sono tutti e tre dello stesso livello forse Arnautovic è quello peggiore ma Correa e Taremi sono dello stesso livello anche se Arnautovic l'anno scorso ha fatto sei gol e uno decisivo in Champions contro il Benfica attenzione Correa e Taremi devono fare ancora gol decisivi in quella maniera aspettiamoli una società seria a gennaio con i soldi della Supercoppa regali uno di questi tre ti liberi dell'ingaggio Arnautovic sono sei milioni lordi sono sette milioni lordi all'anno quindi ti libereresti di tre milioni e mezzo facendo pagare il restante ingaggio ad un'altra squadra Correa quattro milioni otto lordi all'anno risparmieresti quattro milioni Taremi idem sette milioni lordi all'anno Taremi Taremi solo di ingaggio un'operazione di ventuno milioni lordi più otto milioni tra Pastorello e Pinto perché Taremi ha due procuratori Taremi un giocatore che tra qualche mese avrà trentatré anni Taremi ha un'operazione di trenta milioni i nostri dirigenti sono dei fuori classe parliamone parliamone è vero che a zero c'era quello abbiamo raccattato quello abbiamo trovato eh negli scarti ma è comunque Taremi è un'operazione da trenta milioni se lo ripeto tre milioni all'anno per tre anni sono sette quattordici ventuno otto milioni di provisioni tra Pastorello e Pinto perché il signor Taremi ha due procuratori giocatore che fra qualche mese va per i trentatré anni quindi te regali anche puoi regalare anche Taremi perché tanto al livello degli altri due è vero che corre di più è vero si porta bene è vero un bravo ragazzo è vero che corre ma a me serve uno che veda la porta non me ne frega nulla se corri altrimenti ci metto eh ci metto ci metto un cavallo davanti se non mi serve uno che corre a me mi serve uno che tiri la porta e la veda sta cazzo di porta non me ne frega una sega di uno che corre a me voglio uno che tira fammi calmare regali uno dei tre e risparmi quattro milioni soldi della supercoppa a Riyadh non ci vuole tanto a gennaio vai da lì le prendi Jonathan David che te lo danno con 12 13 milioni questo dobbiamo fare perché in difesa per assurdo siamo messi molto meglio rispetto all'attacco anche a livello numerico in attacco c'è il buio c'è il vuoto nada nicht nulla end finita davanti non andiamo da nessuna parte con quei due San Siro San Siro in Milan anche il Milan voleva capire chi poteva rimanere il Milan ha dato per il terreno ha avversato una somma a garanzia e attenzione al dichiarazione di Scaroni ora il secondo anello non è più un problema possiamo proseguire con San Siro quindi lo stadio anche loro hanno bleffato perché lo stadio dell'Inter a Rossano ragazzi quando parlava il sindaco non ci credevano nemmeno il sindaco quella è il posto meno indicato dove fare uno stadio solo solo il giapponese su youtube poteva credere allo stadio a Rossano ragazzi ma di cosa ragioniamo solo quello lì che mangia la pasta con i pane poteva credere allo stadio a Rossano il sindaco si metteva a ride quando lo intervistavano quindi Mina stava apendo chi poteva togliersi dalle palle per rimanere ha capito che l'Inter voleva rimanere loro vogliono rimanere e secondo me l'unico modo per far sì che si possa rimanere a San Siro vedi le dichiarazioni di Scaroni eh ad oggi è quella di coabitare con noi per ora poi dopo magari loro si faranno un altro stadio ma l'Inter ha l'input di rimanere a San Siro con questo ragazzi vi saluto iscrivetevi al canale attivate la campanellina ci vediamo alla prossima puntata ciao inter